5 curiosità su Spider-Man Across the Spider-Verse Ebbene sì ragazzi, finalmente il secondo capitolo sulla saga d'animazione basata sul nostro Miles Morales è finalmente arrivata nelle sale di cinema e ha stravolto moltissimi fan perché è dannatamente bello, è bellissimo, andatelo a vedere perché è una cosa strabiliante In tutto e per tutto non gli ho trovato un difetto 1. Se siete interessati a sapere queste curiosità rimanete a vedere questo video Io sono Catanerd e bentornati su Chuck e azioni Numero 1 Se vi ricorderete bene nella scena post-credit di Morbius vediamo il nostro avvoltoio interpretato da Michael Keaton che viene portato nell'universo Sony Infatti lo vediamo apparire e parlare addirittura del nostro Morbius facendoci credere che comunque sia tutta colpa di Spider-Man legato al fatto di quell'incantesimo tra Otto Strange e nostro Peter in Spider-Man 9 Home Evidentemente gli sceneggiatori del film non hanno ben compresa quali siano le veri ragioni, i veri motivi, insomma le vere dinamiche di questo incantesimo che si basava sul fatto che tutti i cattivi che conoscevano il segreto di Spider-Man finivano in quell'universo E lì va bene, poi hanno fatto tutti i vari errori di trama perché il nostro Electro non conosceva il segreto di Peter Parker Però non divaghiamo troppo. Il punto qual è? Questo cartone animato, questo film d'animazione, questo Spider-Man across the Spider-verse risolve questo buco di trama spiegandoci che è stato tutto a causa del cannone dell'Archemax che ha portato il nostro avvoltoio nel mondo di Morbius dato che comunque grazie a questo cannone si poteva viaggiare nel multiverso e quindi almeno questo problema ce lo siamo risolto però che cavolo, se vi serve un cartone animato per risolvervi i problemi di film live action avete veramente tanti problemi ma ti voglio dire Numero 2 Non potevano mancare in questo film sul multiverso anche tanti altri Spider-Man che conosciamo bene infatti sono arrivati praticamente quasi tutti tranne forse uno di una serie animata di tanti anni fa che non mi ricordo il titolo forse The Amazing Spider-Man o una cosa del genere lo davano tipo la domenica mattina ma ciò che ha più scomporto i fan è stato il vedere queste immagini estrapolate di archivio su Andrew Garfield e Tobey Maguire rispettivamente una durante la morte di Zio Ben, quella di Tobey e l'altra durante la morte del commissario Stacey infatti vediamo delle immagini estrapolate buttate lì di questi avvenimenti determinanti e definite anche il punto fisso per il punto grazie al quale il nostro eroe è diventato la persona, il supereroe che è oggi Numero 3 Tra i tanti camei e apparizioni possiamo vedere anche il nostro Spider-Man della Lego favoloso in qualche scena ma addirittura non potete capire il nostro Spider-Rex il nostro tirannosauro Rex Spider-Man il nostro, com'è che si dice, Ter Tarker di Terra 66 è stata una cosa veramente stravigliante, non me l'aspettavo se non lo conoscete bene appare nell'edizione a fumetti che si chiama Age of Spider-Verse mi pare nel volume 2, una cosa del genere e comunque lo ricorderemo bene per i tanti combattimenti contro il nostro tirannosauro Venom o il nostro terodattico Goblin quindi ricordatevelo perché è un pezzo grosso, veramente Numero 4 Non so se vi ricordate bene quando vediamo il nostro Prawler interpretato da Dennis Glover quest'attore ha avuto un po' un passato, un po' lacerato, un po' sfortunato per quanto riguarda il personaggio di Spider-Man so che doveva interpretare il nostro Uomo Ragno nel 2010 se vi ricordate bene quando Mark Webb con la tecnologia 3D doveva realizzare The Amazing Spider-Man il ruolo però, come sappiamo bene, è finito nelle mani di Andrew Garfield e lui purtroppo ci rimase anche un po' male ebbe fortuna perché riuscì ad ottenere la voce, il doppiaggio di Miles Morales in The Ultimate Spider-Man, la serie animata in ogni caso lo ritroviamo anche nel primo capitolo di Tom Holland Spider-Man Uncomic dove interpretava un criminale che Spider-Man doveva un po' interrogare per farsi dire dove era a voltoio su una nave la scena prima della nave, non so se vi ricordate fino a che non si chiude il cerchio e va a interpretare il Bill & Prawler e questo Spider-Man e il numero 5 non so se avete riconosciuto che la cassiera del supermercato cinesina con gli occhiali entra, vediamo, in una scena abbastanza iniziale del film d'animazione in cui Spider-Man sta lottando contro la macchia questo uomo macchia che tramite le sue macchie va a finire in altri universi e per caso va a finire proprio a San Francisco in quel negozio quindi ho detto San Francisco non so se vi dice qualcosa era esattamente il negozio in cui il nostro Tom Aldi che andava a interpretare Venom di Broca andava a rompere le palle a questa povera cassiera per ogni dannatissima cosa quindi è stato un bel easter eggs legato anche a Venom in ogni caso su questo film d'animazione c'è poco da ridire perché è stato veramente un fulmine a cerchere sereno una cosa veramente strabiliante io penso che abbia accontentato qualsiasi fan che però non ho visto nulla di negativo a parte forse il fatto che dura un tantino troppo va bene ha acquisito la serietà di un film in live action da quanto è stato realista in sé anche se si parla di molti versi tratta degli argomenti comunque molto reali molto legati ai sentimenti legati a tantissime cose cioè è un film molto più per adulti che per bambini poi non parliamo degli effetti in CGI insomma tutta l'animazione tutto ciò che riguarda questo film è veramente una cosa eccezionale io sono convinto che vincerà l'Oscar per l'animazione anche il prossimo anno quindi prepariamoci perché l'ho detto vi lo dico che succederà e niente spero che sia piaciuto anche a voi se non l'avete ancora visto andatelo a vedere guardatevi anche il primo perché è molto carino e niente sono arrivato alla conclusione di questo video spero vi sia piaciuto e sia stato anche di vostro interesse iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella che è sempre una cosa importantissima e da KMD per oggi è tutto e noi ci rivediamo presto al prossimo video ciao a tutti ragazzi